Domenica tre cani hanno mangiato le polpette, di cui due grazie al cielo si è riusciti subito a farle vomitare e non è successo niente di grave. Purtroppo uno non riuscendo a vomitare ha dovuto andare in clinica. Un cartello sistemato all'ingresso del parchetto di Pavia Ovest avverti i padroni di cani del possibile pericolo. In questa area sono state trovate nei giorni scorsi polpette avvelenate, semplice pasta di salame condita con topicida che ha causato malori a diversi cani e preoccupazione nei padroni degli animali. Personalmente quando lo porto lo leggo alla panchina e tendo a fare un giro della zona o portarlo lungo il ticino, massimo che posso fare. Poi giù hanno tagliato l'erba e bene o male lo riusciamo a vedere, qua sopra teniamo legati. Il tuo cane è stato uno di quelli avvelenati? Esatto, domenica pomeriggio verso le 5. Una polpetta era già stata trovata al mattino ma pensavamo fosse l'unica come un avvertimento diciamo. Invece purtroppo poi nel pomeriggio ne abbiamo trovate altre tre mi sembra. Nel momento in cui l'ha mangiato lo stavo guardando, allora sono corsa da lui e aveva proprio tutto il rosa della polvere del topicida in bocca. Allora abbiamo provato a farli vomitare con l'acqua ossigenata ma lui niente, abbiamo dovuto portarlo subito in clinica. L'obiettivo delle polpette avvelenate sono i cani che darebbero fastidio a qualche residente della zona, ci spiegano. Ma la preoccupazione è anche per i tanti bambini del quartiere che frequentano il parchetto. Preoccupatissimi visto che uno dei miei cani è proprio quello che ha subito questa cosa la prima volta e comunque siamo preoccupati non tanto anche solo per i nostri cani ovviamente ma anche per i bambini perché conosciamo una mamma che porta qui il suo figlio oltre che il cane, il figlio tocca per terra, la mangia un bambino, cosa facciamo? L'idea dell'amministrazione è di realizzare nel quartiere un'area di sgambamento cani, richiesta a gran voce dagli stessi residenti. Visto comunque spazio verde ce n'è e ci sembra giusto come in altre aree di pavia che ci possa essere un'area cani. Stiamo realizzando quelle aree di sgambamento che possono effettivamente andare incontro alle loro esigenze. Spiace constatare che ci sia qualcuno non d'accordo e non favorevole e che purtroppo affaccia questi atti. A questo punto vedremo quale potrà essere la procedura, sicuramente scatterà una denuncia.